ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video come vedete voglio farvi vedere il nuovo acquisto che ho comprato per la mia nuova casa ovviamente dato che è un po complicato tirarlo fuori sarà difficile farvi vedere proprio tutta la macchinetta in senso robot per cui vi spiegherò brevemente che cosa fa e vi farò vedere le cose che riesco a tirare fuori dalla scatola perché quando l'ho provato per vedere se funzionava ci vuole almeno due persone per metterlo dentro e per tirarlo fuori perché la scatola è praticamente stretta e robot è troppo largo per farvi capire allora è una posizione un po strana ma questa è perché se non non riuscite a vedere comunque allora questo è un robot da cucina wifi praticamente è della master pro di carlo caracco è uscita da pochi mesi poche parole è nuovo praticamente è il cugino di del bimbi da quello che mi hanno spiegato mi ha spiegato la commessa allora questo costa 800 euro ma dato che col black friday costa di meno io l'ho pagato 3 e 49 come leggete qua allora a 12 funzionalità per per farvi capire adesso vi dirò più o meno quello che so a memoria a due anni di garanzia e limite edition allora vi dico che prima di tutto prima di spiegarvi bene ovviamente poco tempo vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina seguirmi su instagram e lasciarmi un like se volete vedere come funziona questo robot di carlo caracco dovete iscrivervi al mio canale perché poi l'anno prossimo vi farò vedere come funziona ok che ora dell'anno prossimo credo che molte persone ve l'hanno già fatto vedere su youtube per cui questo sarà diciamo io vabbè ve lo spiego adesso perché non mi posso mettere a cucinare con questo robot perché c'è troppo casino in questa casa e poi dato che è per la casa nuova non lo voglio diciamo utilizzare adesso per cui vi farò vedere come si utilizza nella nuova casa tra tre mesi in poche parole allora vi faccio vedere apriamo la scatola così vi faccio vedere allora dentro c'è una scatola praticamente c'è una scatola che questa dove dentro trovate in poche parole la pentola che è a vapore questa è la pentola a vapore scusate per l'inquadratura ok allora questa è la pentola a vapore praticamente è di plastica allora trovate dentro ovviamente il coperchio questo e sono in poche parole due praticamente dove si fa dove si il pane che potete mettere il pane potete mettere il pollo e con questa padella in poche parole lo fate tutto a vapore avete sia il piano sotto che il piano sopra e questo è quello che c'è dentro e ed è fatta così in nera poi scatola provate le istruzioni con il biglietto di due anni di garanzia ovviamente e vi faccio vedere senza tirarla via vi faccio vedere com'è allora dentro c'è la macchina il robot con le sue sono praticamente dentro dentro trovate i quattro accessori che sono la spatola quella di plastica il allora ve la faccio vedere così perché sono incastrati dentro praticamente dove c'è robot questo robot dove avete praticamente il piano che è touch e c'è la rotellina dove puoi cambiare e poi dentro c'è il questo qua che in acciaio e ci sono gli accessori che sono questi per farvi capire c'è dentro il misurino il cestello a vapore poi il coperchio frullatore disco lama e grattugia poi il pressino poi c'è dentro il coperchio per cucinare la spatola l'accessorio farfalla pala latrice le lame il coperchio per vaporiera il cestello vaporiera piccola il cestello vaporiera grande che quello che vi ho fatto vedere prima in poche parole cosa fate con questo tritate con questo potete montare la panna poi questo quella spatola e questo dove trita e fa tipo da frullatore in poche parole fa di tutto e allora i watt sono questi così almeno sapete anche i watt poi la scatola e presso la faccio vedere a 12 funzioni e ci sono tante ricette sono 200 ricette e in più con il wifi potete scaricare altri 100 ricette da quello che mi ha spiegato la commessa poi questa acqua allora questa è la scatola così ve la faccio vedere più da vicino e non mi ricordo cosa stavo dicendo perché ogni volta il telefono praticamente chiude le clip comunque sostituisce le le macchine quelle ad esempio il frullatore trita tutto monta le panne come vi dicevo prima c'è un robot che può impastare anche può affettare e può cuocere come vi dicevo prima a vapore può tritare il ghiaccio e può fare anche il gelato da quello che mi ha detto la commessa è facile da usare perché l'ho visto e appunto non è una posizione è bella da farvelo vedere ma dato che non ho una luce come si deve per farvi vedere ovviamente tutto quello che c'è da farvi vedere giustamente è diverso da robot bimbi in poche parole perché questo è un robot che fa praticamente tutto e sostituisce tutti gli altri robot senza che tu ovviamente devi comprare ovviamente non possiamo provarlo adesso ma lo proveremo se per caso questo video raggiunge tante visualizzazioni tanti like e tanti commenti giustamente vi farò vedere poi come come si usa allora sì diciamo che la presentazione non è delle migliori uno per perché è un po complicato farvelo vedere dentro la scatola vi ho fatto vedere che c'è la macchina praticamente robot e gli accessori che sono dentro sono praticamente di fianco sotto alla robot per per cui anche se volevo farvelo vedere ma non riesco lo stesso perché dovete per forza alzare il robot cioè proprio prendere tutto quello che avete visto che c'è dentro e tirarlo fuori dato che io da solo non riesco a tirarlo fuori ci vuole qualcuno che mi aiuti e non ho nessuno per farmi aiutare allora vi ho spiegato praticamente che cosa fa ovviamente dato che so che ha tante funzioni puoi fare tutto perché fa anche da bilancia perché non c'è bisogno che tu compri la bilancia la macchina per montare eccetera per cui grazie a questo secondo me ho risparmiato tanto così almeno non devo comprare altri altri robot per la cucina e solo con questo fa di tutto prima ho visto per vedere le ricette e in poche parole devi solo aggiungere gli ingredienti e in più passo per passo ti dice che cosa devi fare tu aggiungi gli ingredienti ti pesa perché con la bilancia che c'è dentro incorporata in poche parole quando vai avanti con le frecce scusate ma mi si chiudono le clip non so il motivo e ogni volta che si chiudono le clip poi dopo mi perdo e non so che cosa vi ho detto e devo stare lì di nuovo a guardare tutte le clip per cui io credo che vi ho detto tutto non c'è nient'altro da dire perché si è un video un po' diverso dal solito non è come gli altri dove vi mostro veramente cosa c'è dentro però se volete veramente vedere come funziona basta solo seguirmi sul canale che l'anno prossimo dopo le feste vi farò vedere come funziona per cui prima che mi si chiude di nuovo la clip che ne avrò fatte almeno 10 continuamente che sto cellulare chiude sempre le clip comunque io vi ho spiegato più o meno quello che c'è da spiegare spero che sono stata utile e spero giustamente che quello che ho detto si è capito niente detto questo io ve lo consiglio ok che non l'ho praticamente provato però vi assicuro che vedendolo adesso e vedendolo poi nei video e so che molte persone ce li hanno si sono trovati bene e dato che è il migliore a confronto del bimbi che quello costa sui 1000 passa euro questo qua invece con 800 euro se per caso poi l'ho trovata in promozione come ho fatto io 350 secondo me è un affare perché spendere 800 euro è tanto confronto di 350 per cui niente fatemi sapere sotto qua nei commenti se avete domande io vi rispondo ovviamente i commenti negativi verranno cancellati o verrete bloccati non me ne frega perché se volete vedere il video lo vedete tutto se volete capire credo che vi ho dato informazioni diciamo utili ovviamente è difficile non farvi vedere i pezzi uno a uno però mi dispiace per questo perché è un po' difficile tirarlo fuori dalla scatola però spero che lo stesso avete capito che cosa fa e le sue funzionalità praticamente quello che c'è da sapere prima che mi dilungo di nuovo e prima che faccio danni con le clip noi ci vediamo al prossimo video spero che questo video sia stato utile fatemi sapere se volete altre recensioni o unboxing questo qui era un unboxing un po' complicato un po' diverso dal solito però almeno ho spiegato quello che fa questo robot detto questo fatemi sapere se voi l'avete comprato se voi lo acquisterete e niente detto questo ci vediamo al prossimo video ciao